ciao a tutti ragazzi ascolta capello unto invece di aggiustarti il microfono sulla camicia mettici questa nella camicia vieni mettici questa nella camicia guarda mettici questa invece del microfono professor Fabrizio Bava almeno chiudiamo la storia perché lo dicevano gli esonerati dei tifosi dei semplicissimi tifosi su YouTube noi non siamo nemmeno degli YouTubers Fabrizio Bava professore di bilancio e revisione all'Università di Torino colui che ha scritto vari libri sull'economia del calcio e sui bilanci ma libro diciamo eh il libro più importante che ha scritto il professore Fabrizio Bava è come leggere i bilanci nel calcio qualcuno invece dovrebbe leggere come imparare a scrivere e a leggere quel libro lì dovresti comprarti ma a parte quello perché poi fino a prova contraria ragazzi noi questa cosa qui che ha dichiarato il professor Bava qualche ora fa noi la stiamo dicendo da settimane ma perché perché noi abbiamo la documentazione che ci fa eh certificare e detto anche tramite dei legali che la situazione dell'Inter non presentava nessun illecito perché io ce l'ho la documentazione per dirti che l'Inter non ha fatto nessun illecito te ce l'hai la documentazione per dire che la Juventus non doveva patteggiare non ce l'hai e sentire tifosi della Juventus che si lamentano di gravina quando dovrebbero basciargli il sedere per come la vedo io a gravina anche se io non faccio parte di quella schiera di tifosi lì perché quando c'era Zang e c'erano cose che non mi piacevano io le facevo presenti ma sottolineando sempre che l'Inter si muoveva in totale legalità perché l'Inter ha fatto cose che le che la legge permetteva tra l'altro il professor Bava dice anche Zang ha pagato il suo debito perdendo la sua azienda cose mi sembra avevate già sentito dire da un tifosotto come me un mese fa ora le dice un professore eh di bilancio e revisione all'università di Torino sarà interista anche Bava come qualcuno voleva far credere che c'era quel filo diretto tra gravina Inter gravina se ti fa una squadra non cittate non 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 ti fa certo Inter perché non ha salvaguardato il brand Inter ma salvaguardato il brand della Juve quindi ragazzi conclusa questa panzanata che l'Inter avesse fatto illeciti ha controllato i bilanci dell'Inter gliel'hanno fatti controllare anche a lui non c'è nessun illecito e il professor Bava lo dichiara ufficialmente per chi non conoscesse ripeto il professore andasse a vedere chi è Giuse ci spieghi il reato di aggiotaggio Juventus quello che è stato diciamo avvicinato alla Juventus il reato di aggiotaggio eh che cioè in base a quello che dice la norma poi ho parlato anche l'avvocato Pier perché aggiotaggio che lo sanno un po' tutti cos'è però si apre un mondo sull' aggiotaggio ora capisco che parlare di aggiotaggio con uno che eh confonde Covisoc con Consob che ha che ha malapena sa parlare italiano capisco che sia un impresa ardua ma lo faccio per gli utenti l'aggiotaggio quello che è stato diciamo contestato alla Juventus come dice la parola viene fatto con lo scopo di alterare il mercato quindi divulgazione di notizie false esagerate o tendenziose barra artefici a provocare un aumento del prezzo delle azioni ecco che cos'è l'aggiotaggio in ambito Juventus quindi eh ripeto conclusa questa novella l'Inter non fa nessun illecito lo diara un professore di di bilancio revisione e ora secondo qualche stupido sarà interista oppure magari non lo so si è sposato un interista perché ora vedrete quante gliene diranno a questo professore che l'ha comprato l'Inter che che faceva parte della marotta lì che e purtroppo mi dispiace perché questi canali su youtube giocano sull'ignoranza delle persone perché loro tramite la propria ignoranza entrano in connessione con l'ignoranza di chi li segue perché ragazzi mi dispiace ma gente che segue su youtube persone che offendono un pubblico ufficiale facendo nome e cognome secondo me tanto normale non è perché bisogna essere proprio secondo me dei fuori classe a fare a fare cose quindi ora vediamo eh vediamo ora il signor Frantoio cosa dirà perché aspettiamo le risposte però porta le documentazioni porta le prove porta le prove perché qui tu ci rimbalzi qui ci rimani male filati ciao inter grazie mille